Yumuia Ndogo Ndogo in lingua suaili, cammino sinodale in italiano. È stato questo il tema centrale dell'incontro di giovedì 9 marzo nella parrocchia di San Luigi Gonzaga di Riale, in preparazione alla giornata di solidarietà con la chiesa di Iringa, proposta dall'ufficio missionario di Ocesano, in cui il direttore, Don Francesco Ndedei, ha condotto una doppia intervista a Don Davide Zangarini, attuale Fidei Donum a Mapanda, intervenuto tramite collegamento video, e Monsignor Marco Bonfiglioli con Lucia Mazzola, referenti di Ocesani per il sinodo. Proponiamo questo incontro, operai o umarelli, termine note nel bolognese, per indicare quelli che guardano lavorare rispetto agli operai che lavorano. Il tema è certamente quello dei cantieri. Sacerdotio, chiesa, rapporti con i laici, ministeri e catechesi sono stati gli argomenti centrali attorno cui i relatori hanno condotto le proprie analisi, sia nel territorio bolognese che in quello di Mapanda. I referenti di Ocesani hanno poi dichiarato l'importanza di essere chiese in uscita, quindi ascoltare al meglio le realtà circostanti. Non è necessaria una ripartenza dal basso, ma solo continuare il cammino in unità per essere sempre più corpo di Cristo e popolo di Dio. Grazie.